La ripartenza a Vigevano potrebbe passare dagli ITS e gli istituti tecnici superiori. Mercoledì sera i presidi delle scuole superiori cittadine incontreranno in municipio i rappresentanti di una realtà nuova, data dalla Joint Venture fra scuole di formazione di Pavia e Bergamo, per capire quale potrebbe essere la risposta degli studenti vigevanesi all'offerta di corsi di specializzazione volti a formare tecnici con competenze specifiche secondo i bisogni delle aziende del territorio. Questa, tra l'altro, non è l'unica proposta che è arrivata nelle scorse settimane al Comune. Gli ITS sono corsi post-diploma realizzati in sinergia con le aziende e con corpo docente proveniente in gran parte dal mondo del lavoro. Spesso gli imprenditori del distretto vigevanese avevano sottolineato la necessità di portare gli ITS in città per alzare il livello delle nuove risorse da inserire nelle aziende e aumentare così la competitività. Qualcosa in questo senso sembra finalmente cominciare a muoversi. Ovviamente all'auspicio come sindaco, siccome l'ITS presuppone un rapporto stretto, diretto, con le aziende dove poi i ragazzi devono appunto andare ad imparare, a sperimentare, ovviamente la mia volontà, la mia aspirazione è che chiunque sostanzialmente riesca a portare questi corsi lo faccia rimanendo centrale su Vigevano. Quindi lezioni a Vigevano, attività all'interno delle aziende di Vigevano per creare finalmente quel circuito virtuoso, quel circolo virtuoso che ci possa portare a colmare quel gap formativo che spesso si è detto essere presente in questo settore da parte spesso delle aziende ma anche dei sindacati. Quindi credo che sia un'ottima notizia, un'attenzione particolare sul nostro territorio e credo in un'ottica di ripartenza un segnale importante di vitalità e attenzione a queste tematiche.